Buonasera, Presidente Biden, oh, Presidente Biden, President, Mr. President, it's okay? Ok, tutto a posto, benvenuto, oh, di nuovo, mamma mia, Mr. President, Mr. President, ecco, are you ok? Yeah, it's okay, yeah, very good, si sente bene, si, eh, thank you, thank you, mamma mia, thank you very much, feel good, you are welcome, buonasera, dove va, Mr. President, oh, mamma, come sta? Eh? Mr. President, welcome, eh, è preoccupato, no, non arriva la metropolitana perché non è la metro, it's not the subway, non è la metropolitana qui, no, no, no. What's your name? Con chi parla? Eh, Mr. President, my name is Joe Kennedy. No, Biden, lei è Biden, è Biden, ma con chi parla? No, Biden, lei è Biden, ma con chi parla? No, Biden, lei è Biden, ma con chi parla? No, Biden, ma con chi parla? Grazie. Grazie. Grazie.